Questo video vediamo come capire se piaci a una donna, i gesti incontrollabili del desiderio. Allora, prima però iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale. Seguimi ovviamente su TikTok, ma ti ricordo che su questo canale puoi fare una donazione, fare una donazione facile, se vuoi farla, dai un supporto al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sulla pollice, sotto la tastina e fai una donazione. Se invece ti vuoi abbonare al canale, basta che vai nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema, veniamo al tema come capire se piaci a una donna, i gesti incontrollabili del desiderio. Allora, molti uomini prendono delle nasate perché fanno degli approcci quando hanno dei gesti di rifiuto. E quindi, caro malgascione, se il semaforo è un semaforo rosso, è inutile che cerchi di passare. Col semaforo rosso non si passa. Devi aspettare che il semaforo sia semaforo verde. Soltanto se il semaforo sarà semaforo verde, puoi passare. E soltanto in quel caso lì dovrai fare dell'avance, anzi dovrai ottenere senza neanche chiedere, perché lei è già coinvolta. Ora, è molto importante che tu faccia questo nel modo corretto, altrimenti rischi di prenderti delle vinculate, delle vinculate anche molto potenti. E se non vuoi essere vinculato, devi imparare a fare le cose giuste. Fare le cose giuste nel modo giusto e nei tempi giusti. Quindi devi necessariamente aspettare che ci sia un coinvolgimento. Devi imparare a decodificare quando una donna prova desiderio per te. Perché se tu sai quali sono i comportamenti che generano in lei desiderio, andrai ad amplificare questi comportamenti, andrai a, come possiamo dire, a farlo più spesso, a mettere in atto più spesso, più frequentemente, proprio questi comportamenti che fanno sì che il coinvolgimento cresca, che il coinvolgimento si amplifichi. Perché più il coinvolgimento cresce, più il coinvolgimento si amplifica, più possibilità hai di conquistare, più possibilità hai di sedurre e di acquisire potenziale. Il potenziale di seduzione è proprio quel quid che ci dice che una donna è coinvolta, che una donna è innamorata. E quindi sarà molto più facile poi portartela a letto, sarà molto più facile, diciamo, ottenere grandi risultati che neanche la tua più ferva di immaginazione si può rendersi conto da questo punto di vista. Quindi è molto molto importante quello che ti sto dicendo adesso. Ora, come capire quindi se piaci a un uomo? Quali sono i gesti, se piaci a una donna? Quali sono i gesti controllabili, incontrollabili del desiderio per capire se piaci a una donna? Allora, intanto tieni presente che cos'è che una donna mette in bocca? Le cose che gli piacciono. Quindi la bocca di una donna soprattutto sottende al piacere. E quindi se quando ti vede guardandoti negli occhi, perché il concetto fondamentale è che ti deve guardare negli occhi, perché se guarda un altro, mentre tu sei lì al ristorante, lei guarda un altro e dà questi segnali, beh, sono diretti all'altro, non sono diretti a te. Questo devi tenerlo presente, devi prendere in considerazione. E allora se invece, mentre guarda te, si mordicchia le labbra, soprattutto si umetta le labbra, soprattutto se è il labbro superiore, allora significa che gli piace proprio sessualmente, non vedo l'ora di farlo. Se lo fa doppio, inferiore e poi anche superiore, significa che ti ama. Ti ama totalmente, sia fisicamente, cioè gli piace fisicamente, ma lo attizzi, diciamo, fisicamente, ma lo attizzi anche affettivamente, in modo più profondo. Quindi significa che c'è un coinvolgimento importante nei confronti di questa donna. E poi un altro segnale molto molto interessante, molto intrigante, è il bacio, un bacio fatto in questo modo. Ricordate, no? C'era quel vecchio film di Fantozzi, dove c'era la signorina Silvani, che faceva questi gesti per sedurre Fantozzi, in realtà avvengono, sono micro. E se una donna muove le labbra in questo modo, vuol dire che è fortemente coinvolta con te, molto più di quanto la sua più fervida immaginazione possa supporre, possa pensare. E poi c'è lo scoprirsi il collo. Il fatto se una donna si scopre il collo. Si scopre il collo e il collo è una zona, oppure si ti mostra mentre parla i polsi. I polsi e il collo sono due zone erogene secondari. Come ti dice, se io mi apro a te, mi, diciamo, sono pronta, sono disponibile nei tuoi confronti. Sono due segnali molto importanti. Ovvio che poi c'è anche il contatto fisico, cioè se cerca di toccarti. È ovvio che questo potrebbe anche farlo deliberatamente, perché è meno inconscio, ti cerco di toccarti. Però spesso il fatto che una donna è sempre presente, diciamo, dove tu sei, cerca di toccarti, cerca di entrare in contatto con te, se siete, che ne so, al ristorante, al bar, all'apericena, all'aperitivo. Insomma, cerca di sedersi vicino a te, cerca lei di stabilire un contatto fisico. Ride a delle battute idiote. Quindi, se vedi che lei, donna che ride, mutanda che cala. Tieni presente questo. Quindi, se vedi che tu puoi anche dire delle stronzate assurde, che però lei ride, sorricchia e così, beh, c'è un forte coinvolgimento verso di te. Questo è un altro segnale molto importante. Se invece ti vede e raschia, ti vede e si tocca al naso in questo modo, ti vede e si gratta dietro, ti vede e va indietro, si gratta anche la testa così, insomma, allora significa che gli fai schifo, significa che gli fai vomitare. Non è per niente interessato a te, non gli frega niente di te, non gli interessa nulla di te, non gli piaci. E allora vuol dire che i comportamenti che tu stavi mettendo in atto sono comportamenti sbagliati, sono comportamenti che non portano da nessuna parte. Devi cambiare comportamento, devi cambiare atteggiamento, altrimenti verrai scartato, altrimenti verrai scartata, non ti prenderà più in considerazione. Molto importante cogliere questi segnali perché se lo fai riesci a sapere quando il semaforo è verde, quando il semaforo è rosso e mettere in atto poi i giusti comportamenti per conquistare, sedurre e far innamorare, che è fondamentale. Metti un like nel frattempo se il video ti è piaciuto, condividilo, mi raccomando, con i tuoi amici. Ti ricordo che se vuoi, anzi iscriviti al canale, è gratuito, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che se vuoi puoi fare una donazione al canale, anche soltanto un caffè è sempre ben accetto, basta che vai sotto il video e clicchi sull'apposito tastino e fai una donazione. Se invece vuoi usufruire dei vantaggi esclusivi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ovviamente seguimi anche sugli altri, su tutti i miei canali YouTube e sugli altri miei social, Instagram Massimo Taramasco Ufficiale e TikTok Massimo Taramasco. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video.